Gli accusati respingono ogni addebito e rilanciano. Udienza di commalida molto movimentata davanti al GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Micele, dove sono comparsi Angelo Di Falco, Domenico Avanzato e Calogero Zarbo, accusati a vario titolo dell'omicidio di Roberto Di Falco, fratello del primo, e tentato omicidio oltre che di detenzione porto illegale di arma da fuoco. Il principale indagato, Angelo Di Falco, accusato di avere provocato la morte per errore del fratello, professa la sua innocenza e accusa Calogero Zambuto, sessantenne titolare della concessionaria Auto per Passione, che secondo gli inquirenti sarebbe stato vittima di una spedizione punitiva sfociata nell'omicidio. Di Falco accusa senza mezzi termini Zambuto, è lui che aveva la pistola ed è lui che ha sparato. Tesi sposata integralmente dal legale di fiducia avvocato Santo Lucia, che ribalta con il suo intervento davanti al GIP la tesi accusatoria, affermando che Calogero Zambuto e i suoi figli si aspettavano la reazione dei Di Falco perché non avrebbero avuto rapporti commerciali corretti in tema di compravendita di autovetture e dopo un alterco telefonico avvenuto venerdì mattina si sono armati di pistola, martello e pala per lavori edili, per reagire alle previste azioni violente dei palmesi. Nella giornata di ieri gli agenti di polizia durante un servizio di controllo sulla scena del crimine hanno trovato Calogero Gastoni, quarantenne agrigentino, con qualche criticità giudiziaria in rapporti con Zambuto e i figli. I poliziotti della squadra mobile delle volanti lo hanno trovato lì, si è giustificato dicendo che era andato in concessionaria per dar da mangiare ai cani di Zambuto. Al momento l'uomo è stato denunciato a piede libero per violazione di sigilli, ma sono molti i pensieri che si rincorrono nella testa degli investigatori e del pubblico ministero Gaspere Bentivegna per dare un senso compiuto alla presenza inattesa e controlegge di Gastoni sul luogo del delitto. Anche gli altri indagati negano ogni addebbio e si dichiarano presente al tragico episodio solo per puro caso e non certo per compiere il delitto o una spedizione punitiva. Entro oggi il GIP Miceli scioglierà la riserva e deciderà se convalidare o meno l'arresto dei tre indagati. I loro legali, Santo Lucia e Antonio Ragusa, hanno già chiesto la revoca del provvedimento restrittivo.